C'è un antico detto giapponese che dice anche occhio vuole la sua parte. Ma lo sapete che l'occhio è più ingordo dello stomaco? Stavo leggendo questo studio che dimostra come mangiare in un piatto più piccolo dì la sensazione di mangiare di più perché sembra più pieno e quindi permette di sprecare meno cibo. L'ho detto subito mia nonna che in quel momento aveva estratto le lasagne dal forno mi diceva bene Yoko non ti preoccupare ci penso io uso il servizio piccolino. Risultato erano i soliti 3,5 kg di lasagna ma serviti in 25 piattini da caffè.